Un sentimento di vicinanza al presidente del Benevento Calcio reste vigorito dopo il suo annuncio di voler lasciare la guida dei giallorussi. Con il passare delle ore emerge sempre di più. Tantissime le persone appassionate di calcio, anche solo da parte di chi riconosce in vigorito l'uomo imprenditore capace di fare impresa nel Sannio, che chiedono ora al padron dei giallorussi di restare. Per i tifosi sani, per la città e anche per la provincia, che l'hanno sempre rispettato e voluto bene, questo fa male, però questa frange di tifosi che si permettono di fare questi striscioni, queste cose, per me ha fatto bene. L'unico messaggio del signor vigorito è che ci ripensi e ci ripensi più presto e di tenere il nome della città in alto in tutto il mondo. Siamo tifosi e siamo tutti a favore di vigorito, la città è tutta a favore di vigorito. Intanto dopo le reazioni continuano gli interventi anche della politica e del mondo associativo. Il consigliere comunale e referente di Civico 22, Angelo Moretti, in un'accorata nota esprime vicinanze e parole di apprezzamento per l'operato del presidente vigorito e accende i riflettori sulla questione stadio, rimarcando «Una struttura ben affidata alla società del Benevento deve restare la prima priorità di un rapporto futuro tra il presidente vigorito e la città di Benevento». Le proloco del Sannio al fianco di vigorito. Renzo Mazzeo, presidente del Comitato Provinciale Umpli, rende pubblico il suo leale sostegno ad un uomo simbolo della provincia beneventana.